Allora, il primo brano in programma è La Ciarda, è la composizione più famosa di Vittorio Monti, è un brano concertistico rapsodico scritto nel 1904 basato sulla danza popolare e genere musicale ungherese e viene suonata infatti da tante orchestre ma tutto quello che ascolteremo dal maestro Fabio Ceccarelli ha proprio un'interpretazione molto, molto personale e piena di passione. A voi il maestro Fabio Ceccarelli e la Ciarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.